Conf Industria si oppone alla soppressione della tratta a Rodi-Calenella. Continua dunque la polemica sulla proposta di eliminare la tratta ferroviaria che va da Rodi-Garganico a Calenella, nel territorio di Vico del Gargano, una proposta della senatrice Fallucchi. La stessa senatrice nei giorni scorsi ha attivato anche una petizione con tanto di raccolta firme per la cancellazione della linea ferroviaria proponendo al suo posto una pista ciclabile per il rispetto dell'ambiente. In una lunga querella che si prolunga da giorni si inserisce anche Conf Industria Foggia che evidenzia come la programmazione delle ferrovie del Gargano è da sempre incentrata sugli investimenti nel rispetto dell'ambiente e riguarda tutte le popolazioni del Gargano Nord, ma anche Foggia e Stansevero da sempre in asse con il promontorio. Il territorio con in testa i comuni di Rodi e Vico spinge da tempo per implementare i collegamenti ferroviari fondamentali per uno sviluppo armonico. Dietro a questa linea vi è la necessità di una mobilità variegata capace di soddisfare un'utenza territoriale e turistica sempre più complessa e sostenuta, dice il presidente di Conf Industria Foggia, Elisio Zanasi, che aggiunge che la tratta è un elemento fondamentale di un circuito economico su cui fanno capo popolazioni, operatori e priorità naturalistico ambientali del Parco Nazionale del Gargano attraverso l'attività di uno dei più importanti gruppi imprenditoriali della provincia come Ferrovie del Gargano associato a Conf Industria Foggia. L'opposizione chiara e netta delle amministrazioni e delle associazioni dunque va nella giusta direzione, dicono da Conf Industria, mantenere la rete attuale ed implementare i collegamenti così come previsto dal piano attuativo, del piano regionale dei trasporti e da Bruxelles che consentiranno di offrire nuovi servizi alle popolazioni e nuove soluzioni reali alle problematiche occupazionali dell'area. Pertanto, conclude Elisio Zanasi, il presidente di Conf Industria, ribadiamo che il servizio ferroviario è uno degli importanti assi della mobilità e con i servizi su gomma, che da esso diramano, rappresenta la rete del trasporto pubblico locale, elemento fondamentale per lo sviluppo. Grazie a tutti.